Noi siamo a Palazzo Chigi, come vedete il portone si è appena chiuso da pochissimo da un quarto d'ora perché è finito da poco il consiglio dei ministri, l'ultimo consiglio dei ministri di Mario Draghi nel pieno delle sue funzioni, di quello che è stato il terzo ed ultimo governo di questa legislatura. Allora una nota prima di tutto di cronaca, è durato un po' di più il consiglio dei ministri rispetto alla media a cui ci ha abituato Mario Draghi perché ci hanno riferito dall'interno che tutti i ministri hanno voluto prendere parola per salutare, per ringraziare Mario Draghi anche quei ministri delle forze che hanno contribuito a far cadere il governo, ad esempio ha parlato Potonelli che è il capodelegazione al governo del Movimento 5 Stelle, ma anche Giorgetti ci hanno raccontato di un clima disteso da quiete dopo la tempesta, ma perché è stato molto importante questo consiglio dei ministri che ha ratificato comunque le dimissioni di Mario Draghi ma è stato importante perché si è deciso il perimetro di azione del governo nelle prossime settimane, perimetro in realtà dettato da Mattarella nel discorso di oggi, ovvero si può continuare ad esercitare, quindi le azioni correnti si chiamano così, rispetto alle emergenze che sono in corso, quindi emergenza pandemica, emergenza economica data dalla guerra in Ucraina e poi anche parola d'ordine PNRR infatti si pensa che il banco di prova di questo perimetro sarà il decreto aiuti bis, un decreto sostanzioso addirittura 10 miliardi si vocifera e che potrebbe contenere addirittura il salario minimo questo è un certo punto di vista